Ciao a tutti, in questo video vi mostro come realizzare in pochissimi secondi questo scrub labbra al cioccolato, che è tra i miei preferiti, perché ha un sapore buonissimo e lascia le labbra morbidissime. Si prepara così. Mescoliamo un pochino prima di aggiungere l'ultimo ingrediente. Io vi consiglio di applicare questo scrub almeno una volta alla settimana, e tra l'altro si conserverà tranquillamente un mese a temperatura ambiente. Rimescoliamo prima di trasferire il tutto nel contenitore finale. Come si applica? Andate a massaggiarlo qualche secondo sulle labbra, poi lasciate in posa qualche altro secondo e sciacquate il tutto. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, se sì, pollici in su, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!